Quando gli affetti familiari si lasciano convertire alla testimonianza del Vangelo, diventano capaci di cose impensabili che fanno toccare con mano le opere che Dio compie nella storia. Così il sorriso di una famiglia è capace di vincere la desertificazione delle nostre città. Lo ha detto Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale tenuta questa mattina in Piazza San Pietro, presenti circa 20.000 fedeli. Proseguendo le riflessioni sulla famiglia, il Papa ha iniziato ad analizzare il modo in cui essa vive la responsabilità di comunicare la fede. Quando Gesù dice chi ama padre o madre più di me non è degno di me, non vuole cancellare il quarto comandamento, onora il padre e la madre, che resta il primo grande comandamento verso le persone. Ma i legami familiari all'interno dell'esperienza della fede e dell'amore di Dio vengono riempiti di un senso più grande e diventano capaci di andare oltre se stessi per creare una paternità e una maternità più ampie e per accogliere come fratelli e sorelle anche coloro che sono ai margini di ogni legame. Perché unire i legami familiari all'alleanza col Signore li protegge dall'egoismo e li fa diventare speranza per la terra, anche nelle nostre città desertificate per mancanza di amore. Il sorriso di cui una famiglia è capace di vincere questa desertificazione delle nostre città. E questa è la vittoria dell'amore della famiglia. Nessuna ingegneria economica e politica è in grado di sostituire questo apporto delle famiglie. Il progetto di Babele edifica gratacieli senza vita. Lo Spirito di Dio, invece, fa fiorire i deserti. Dobbiamo uscire dalle torri e dalle camere blindate delle elites per frequentare di nuovo le casse e gli spazi aperti delle moltitudini, aperti all'amore della famiglia. Dove c'è una famiglia con amore, ha concluso il Papa, questa è capace di riscaldare il cuore di tutta una città con la sua testimonianza.